Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 8 febbraio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo bilancia. Contrarietà senza un vero perché. A giudicare dalle effemeridi del giorno, tra le stelle in cielo vige uno splendido accordo, che nel vostro caso si traduce in una giornata tranquilla in famiglia, sia pure con la quadratura di venere della luna da prendere con le pinze, pesante ma non drammatica sul lavoro, effetto di Saturno in seconda casa, ma fortunatamente promettente e produttiva in ambito finanziario, i vostri titoli volano in alto, ipotizzando già buoni guadagni nel breve. In coppia se qualcosa da lamentare c'è il rapporto troppo cerebrale, un po' carente sul fronte della fisicità, sempre importante in una coppia, soprattutto giovane. Volersi, bene, metter su casa insieme e trascorrere tranquille serate leggendoci ciascuno sulla propria poltrona rasserena ma non basta, l'amore che vi metteva i brividi sembra svanito, resta solo qualche svogliata carezza. Meglio correre ai ripari prima di arrivare a questo punto, accettabile se siete da un po' in pensione, ma non per giovani rampanti con tutta la vita avanti da costruire e colorare, con Giove godurioso nel settore oroscopico dell'Eros, reso ancora più intraprendente dalla curiosità uraniana, pregustatevi una notte magica. Amori non corrisposti, illusione sul conto di persone che alla fine ci deluderanno. Sconfitte in amore, tradimenti, ma anche e soprattutto il consultante potrebbe essere innamorato di qualcuno impegnato, sposato, separato, divorziato. Anche i single potrebbero incontrare persone sbagliate o comunque impegnate. Intuito. Percezioni extrasensoriali. Azioni giuste al momento giusto. Conforta una persona che soffre, fai una buona azione e se puoi regala qualcosa di utile. Consiglia chi ha dei dubbi, consola chi soffre. Una persona che non sentite e vedete da tempo oggi potrebbe tornare a cercarvi, non lasciatevi cogliere impreparati e non fate recriminazioni sul vostro passato. Marte è subdolo e potrebbe darvi fretta in alcune decisioni, soprattutto quelle che riguardano finanziamenti, prestiti o mutui. E il caso che prendiate ogni decisione è solo dopo aver ben valutato il tutto e con grande prudenza. Avrete modo di far valere le vostre ragioni, fatelo in modo deciso, protestate pure, ma fatelo educatamente e contatto. Sono giorni in cui l'impulsività potrebbe giocarvi brutti scherzi. Nutrite pure speranze nuove in amore, alcune situazioni stanno per cambiare segno e diventare anno presto positive. Ma da oggi dovrete pensare positivo e approdare ai problemi con logiche nuove. Oggi un amico potrebbe dirvi qualcosa che vi infastidirà, prendete le vostre cautele alla luce della pazienza e dell'autocontrollo che non dovranno mancarvi se volete conservare l'amicizia. Un vostro problema è vicino alla soluzione. Per i nati di domenica si prospettano anche entrate economiche. Oggi potrebbero arrivare buone notizie su molti fronti, per telefono, per email o per posta. Potreste avere bisogno anche del parere o consiglio di qualche persona preparata per sfruttare al meglio i vantaggi di queste buone notizie. Potrebbe arrivare una notizia per posta o per telefono che vi lascerà perplessi. In ogni caso provate a pensare positivo, tutto si risolverà a breve. Un fortunato Plutone nel segno alleato dell'acquario vi riporta la calma e l'equilibrio in famiglia, settore in cui trovate sempre il modo di attivare la vostra capacità di concordia, di ordine e di armonia globale. Il vostro stato di salute è oltremodo soddisfacente, in special modo lo sono gli organi che sono sotto la protezione del vostro segno, i reni, il fegato, la cistifellea, la pelle. Luna malmostosa, appena addolcita dalla presenza di Venere che sul fronte sentimentale vi inclina al rimpianto, il passato è un'onda d'urto che vi travolge, riportando in auge vecchie foto ed episodi dimenticati. Veloce il pensiero di un vecchio amore, scoprendo che bolle ancora sotto la cenere. Chissà se lui o lei prova la stessa cosa. Basterebbe trovare il coraggio per verificare, ma in voi quel coraggio per ora latita. Ecco perché scrollate le spalle tuffandovi nel lavoro. Amore ed Eros. Tutto proiettato nel passato, nel mondo dolce e delizioso, ma anche doloroso dei ricordi. In coppia vi viene in mente il come eravamo, da single una persona perduta magari per colpa vostra, e qui si entra nel campo minato del rimorso. Famiglia affettuosa e complice sempre pronta a darvi una mano, se dal lavoro arrivate a casa spappolati trovate le pantofole all'ingresso e la cena pronta, sorridete, siete amatissimi. Lavoro e denaro. Un grande affare a casa, tra faccende, stiro, peggio ancora se nel vostro appartamento svolgete la vostra attività in proprio, oggi nel pieno del suo vigore. Vita più dura e priva di soddisfazioni per chi ha un impiego in azienda dove ci si sente non persone ma numeri. La fortuna vi sorride in ambito finanziario, con un buon investimento che porta in alto la cifra messa in gioco in partenza. Benessere. Digestione laboriosa, con la cucina regionale ve la cavate alla grande, ma se avete ospiti esagerate con le portate, tutte ricche di ingredienti ottimi ma pesantucci. Dopo il dolce e il vinello anche il caffè e l'ammazza caffè. Insomma, vi trattate bene, ora urge uscire per fare quattro passi. Per lei, casa raffinatissima, elegante, arredata come su una rivista patinata del settore. Ma c'è ancora qualcosa che manca e la sua assenza la si nota più ancora che quella di un quadro di Van Gogh appesa alla parete. Cosa sarà? La vita, il calore, il bisogno di una casa vissuta, abitata da persone che interagiscono, si amano, litigano. Quest'ordine quasi maniacale, invece, mette tristezza. Per lui, ciascuno ha i propri scheletri nell'armadio ma anche semplici foto di belle ragazze nel cassetto dei ricordi. Se lei si dimostra così curiosa e irrispettosa nei confronti del vostro passato, probabilmente non merita il vostro presente e di sicuro il futuro. Chiarite subito, magari siete ancora in tempo a correggere il tiro. Colore delle emozioni, beige rosato. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 10, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.